Expo fatta fare agricoltura, turismo e ambiente organizzato dalla Fondazione Mancuso, sabato 5 ottobre alle ore 10, siamo con Pippo Capellupo, presidente dell'UMPLI Calabria. Intanto devo ringraziare anche quest'anno la Fondazione Mancuso e tutti coloro i quali hanno lavorato per una manifestazione di questo genere. Quando parliamo di ambiente, quando parliamo di forze che sono le nostre, quelle della Calabria, parliamo di turismo, parliamo soprattutto di agricoltura. Beh, allora non dobbiamo far altro che ringraziare tutti coloro i quali finalmente ci mettono nelle condizioni di poter lanciare quell'immagine seria, quell'immagine vera della Calabria. Noi siamo sempre per far vedere esattamente quello che fanno i 999 per mille di calabresi che fanno sempre delle cose ottime. Noi non siamo più come in passato coloro i quali vogliono mettere in disalto quella parte negativa. Andiamo laddove ci sono centinaia e centinaia di cose che si fanno ogni giorno e che sono positive. E devo ringraziare tutte le prologo della Calabria che lavorano in questo contesto per mettere in luce le cose belle. L'agricoltura in Calabria è stata trainante in passato, oggi è ritornata ad essere ancora più forte e tutto ciò che è gastronomia, tutto ciò che sono...